aspetta cosa io ho detto io ho fatto bimbo minchia lui 3 su 1 lol e io cazzo vuoi che rompi le balle oh vado all'ufficio io mi copri un attimo vado all'ufficio e prendo l'elicottero sono un genio ora io mi metto il fucile a canna a mozza e sulla oh l'ho preso l'ho preso l'hai vista la kill l'hai vista la kill ho sparato appena son passato oh son passato così in moto e l'ho preso di culo oh minchia che kill che kill della madonna eh? si vabbè ma ho fatto una kill della madonna sono passato in moto tipo impennando te lo giuro te lo giuro su quello che vuoi oh mi devo levare da ceo perchè se no non mi fa entrare nell'ufficio ok no vedo se me l'ha registrata